Pino, cosa ne pensi della clerice di Vespa che guadagnano più di un milione di euro all'anno a spese nostre? Li manderei a zappare a tutti e due, lì li manderei, altre che la prova del cuoco Vespa se ha, a furia di... se è fatto una carriera in Rai, cioè questo prende milioni di euro all'anno, capito? Per fare un programma che sembra il salotto di zia Anunziatina, sembra Rispetto per il salotto di zia Anunziatina Sempre, ciao zia Anunziatina Non mischiamola con la cioccolata Zia Anunziatina, Jack, prepara di quelle melanzane alla parmigiana come mia mamma, che è una roba pavolosa proprio Quelle ti fanno dimenticare pure la crisi Ciao mamma, un bacio